Siamo qui con Pietro Rocco della Sartoria Astro che ha fornito le splendide location nelle quali sono stati ambientati gli interni del corto La Passeggiata e soprattutto dove c'è una scena molto significativa. Ce ne vuoi parlare? Sì, in realtà, visto che lui era un sarto, quindi Roberto, si è servito un poco della Sartoria dove ha trovato un po' di ispirazioni. In più si sono rivolti anche nella camera accanto dove poi c'è stata la morte della mamma di Roberto. Scene molto belle, molto sentite.